Non c'è elezione senza totonomine, ma complice il Rosatellum, la nuova legge elettorale. Questo avvio di campagna elettorale sta riservando grandi sorprese nelle candidature abruzzesi, ma il comune mezzo gaudio, dice la saggezza popolare, perché problemi, mal di pancia e paracadutati sono trasversali rispetto al colore politico, ammesso che si riesca ancora a vedere chiaramente. Nel centrodestra in Forza Italia, dopo la sforbiciata alla candidatura di Antonio Razzi, che ha lanciato strali al veleno contro l'establishment del suo partito, assolvendo invece Silvio Berlusconi, fanno notizia altre due esclusioni eccellenti, quella dell'ex governatore Gianni Chiodi e del recordman di preferenze Paolo Gatti, sacrificati sull'altare della quarta gamba del centrodestra. Cambiano dunque gli equilibri nel partito azzurro, con l'asse che da Teramo si sposta sempre più verso il chietino, vista anche la candidatura del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, del parlamentare uscente Fabrizio Di Stefano e del sindaco di Fossa Cesia Enrico Di Giuseppe Antonio. Ci saranno anche Paolo Apelino e Gaetano Quagliarello, quest'ultimo per volontà romana. Molti giornali nazionali l'hanno chiamata la notte dei lunghi coltelli, la direzione nazionale del PD di ieri, anzi di questa mattina, è destinata a lasciare il segno nei democratici. Abruzzesi messi in secondo piano e due governatori candidati, Luciano D'Alfonso al proporzionale del Senato e Deborah Serracchiani, governatore del Fruiuli, al proporzionale della Camera. Tre big regionali fuori Tommaso Ginobble è battuto dal capogruppo in regione Sandro Mariani, anche qui equilibri che si stanno rimodellando. Renzi in persona vuole candidato nell'Aquilano l'ex sindaco del capoluogo Massimo Cialente, assieme a Stefania Pezzopane. A sorpresa, subito dopo D'Alfonso, nel listino proporzionale del Senato, ci sarà Cristiana Canosa, vicino al governatore della Puglia Michele Emiliano. Dal chietino anche Camillo D'Alessandro e il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe. Nel pescarese invece la new entry Antonella Allegrino, attuale assessore al sociale del comune di Pescara, confermato in extremis Antonio Castricone. Nei 5 Stelle fa notizia la candidatura dell'ex direttore del centro ed ex giornalista dell'Espresso, primo di Nicola, con i grillini che scioglieranno il nodo dei collegi uninominali lunedì, annunciando nel frattempo il rally in Abruzzo con 360 tappe nella regione. Potere al popolo avrà in lista il suo leader Maurizio Acerbo, mentre in Liberi Uguali, il partito guidato da Pietro Grasso, è caos per le decisioni romane non condivise dai rappresentanti in regione Abruzzo, che hanno portato alla ritirata di una ventina di candidati, tra cui Gianni Melilla, che questa mattina ha fatto il punto dei suoi cinque anni in Parlamento, che lo hanno visto tra i più presenti in aula. Melilla ha detto no alla candidatura nel listino del Senato. L'altro ieri a me mi hanno proposto di fare il capolista al Senato, per Liberi Uguali, ma dopo aver riflettuto non ho accettato, perché sarebbe stata allora una questione personale la mia critica. La mia critica invece non è un fatto personale. Ritengo che la politica debba sentire di più i territori, debba ascoltare di più i cittadini, perché attraverso i paracaduti, i deputati catapultati dall'esterno, noi alimentiamo l'astenzionismo. Gianni Melilla resterà al suo posto in questo partito? Certamente. Grazie. 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 Grazie.